Da sabato scorso sono pienamente operativi su strada i 15 nuovi agenti assunti dalla Polizia Locale di Reggio Calabria a tempo pieno e determinato per tre mesi nell'ambito del progetto approvato dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza urbana per le annualità 2018-2021. A darne notizia in una nota l'assessore alla Polizia Locale Paolo Brunetti. Sì, dopo una settimana di formazione professionale da sabato scorso sono operativi sul territorio 15 nuovi agenti a tempo pieno e determinato per la durata di tre mesi. Questi agenti sono stati assunti per mezzo di un bando pubblico e ci permetterà nell'anno in corso di assumere sempre a tempo determinato circa 52 vigili. Il progetto verrà replicato anche per i prossimi due anni, quindi per il 2022-2023. è un progetto ministeriale finanziato da fondi ministeriali e questo ci permetterà di aumentare il numero di agenti presenti sul territorio. Si interesseranno esclusivamente di viabilità, quindi ci sarà un maggiore controllo per esempio sulla sosta selvaggia e si adopereranno affinché il traffico sia pioggevole in città.